Salve a tutti e soprattutto buon anno. Oroscopiamo un po' insieme. Toh, montati qui e va a Parigi. Capricorno. Stronzo nucleare, stronzo atomico. Stronzo, 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 stronzo. Acquario. Sta pieno. De che? De cazzi suoi. Pesci. Siete fritti. Cancro. Arciughe. Leone. Fai la dieta dei cazzi tuoi. Ora che abbiamo oroscopato insieme, buon anno. De sto cazzo. No. Evviva. Buon anno a tutti. Andate. Andate in pace. No, quello è freddo. Ebbene, uguali. Andate. A panculo. Buongiorno un cazzo. Benvenuti in questo fantastico 2022. Oggi oroscoperemo un po'. Ariete. Buongiorno un cazzo. Toro. Vai. Cancro. Buon anno a tutti e benvenuti all'oroscopo più atteso del 2022. Dario. Acquario. Acquario. Sta pieno. De che? Beh, fassi i cazzi suoi. E ora che abbiamo oroscopato insieme. Del suo cazzo. Io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse. Cancro. Cancro. Arzu. Leone. Fai la dieta e ti fai i cazzi tuoi.